Ieri sera all'aeroporto di Fontana Rossa, straordinaria accoglienza e bagno di folla per Fabian Rinaudo, il centrocampista argentino che il Catania ha acquistato con contratto definitivo fino al 2017. Grande colpo dell'addiros azzurro Pablo Cosentino che ha convinto lo sporting Lisbona a cederlo per 3 milioni di euro. Fondamentale è stata la volontà del giocatore che nel breve incontro con i giornalisti appena arrivato ha ribadito la voglia di tornare in quella che considera la sua nuova casa per riportare subito il Catania in Serie A. Ora è più probabile la cessione di Lodi, vedremo in settimana.